Ma te l'hai spostato proprio? Angelo! Ai microfoni di Calabria 7 parla il segretario regionale della CGL, Angelo Sposato. L'argomento è fin Calabra. In Calabra ha fatto alcune proposte irricevibili. Con le partecipate e gli enti strumentali non ci siamo in Calabria. Abbiamo detto al governatore che su Sorical, Fincalabra, Ferrovie della Calabria, Calabria Verde bisogna assolutamente fare un approfondimento perché noi chiedevamo una riforma delle partecipate degli enti strumentali invece a distanza di 4 anni sono quasi tutte commissariate. Non si può andare avanti con la politica dei commissariamenti. È commissariata Fincalabra, è commissariata Calabria Verde, è commissariata Sorical. Questa è una politica dei commissariamenti, è commissariata la salute. Il problema poi non è chi fa il commissario, il problema è uscire dalle logiche di commissariamenti con piani industriali credibili. Il piano industriale di Fincalabra è assolutamente poco credibile e poi, diciamoci la verità, fino ad oggi il prezzo più alto del risanamento di Fincalabra l'hanno pagato i lavoratori sulla prima pelle perché hanno dovuto rinunciare alle loro retribuzioni e in alcuni casi hanno dovuto cedere pezzi di salario per mantenere viva questa società. Che non ci saremmo aspettati da un ente strumentale come Fincalabra, un attacco al sindacato scomposto che abbiamo rimandato al mittente. Noi abbiamo chiesto di fare una valutazione a 360 gradi sulla governance di Fincalabra. Fincalabra iniziassi a spiegare perché ci sono tante consulenze esterne, perché si spendono soldi a consulenza e invece non si rispettano i contratti dei lavoratori perché abbiamo dovuto fare, anche con Fincalabra, il sindacato si è dovuto assumere la responsabilità anche di fare dei piani conciliativi per pagare i salari dei lavoratori. Su questo intervenire la giunta regionale, ma abbiamo capito che la giunta regionale non vuole intervenire perché gli fa comodo questa situazione, perché nella politica dei commissariamenti il commissario, che in questo caso è il governatore Oliverio, perché ormai è diventato il commissario della Calabria, ha tutto l'interesse a mantenere questi enti commissariati perché con i commissariamenti si possono gestire meglio, con governance invece serie non si possono gestire. Quindi questa politica dei commissariamenti ormai è fallita, anche sui temi della salute. Quando si parlava di superare il commissariamento abbiamo capito che il problema era il commissario e non il superamento del commissariamento. Se il commissario va bene, se non il commissario non va bene. E così non va bene. Grazie.